Ciao a tutti ragazzi, sono GaspBuster e vi do il benvenuto in una nuova puntata della tecnica. Adesso come vedete sto cercando di costruire un query. I 16 diamanti che ho a deriva, un po' dal mining e un po' dalla transmutation tablet. Sotto nel, come dire, semi terrato, ho allargato la stanza e ho fatto una seconda uscita. Sono un vero architetto lol. Sotto nel, come vedete sto cercando di costruire un po' di costruire. Avete visto che Fashion è diventata casa mia? O almeno la parte sotto, Ast. Beh adesso eravamo rimasti a questi gear che devono essere trasformati in quelli di ferro e poi successivamente in quelli di oro. Ma mi sa che l'oro non ce l'ho e lo prenderò dalla transmutation tablet. A presto. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quattro, quattro, in cui c'era la Minium Stone invece della Philosopher's Stone. Mi sembra che l'abbia sospesa per Deber del Crafted. Quattro, quattro, in cui c'era la Minium Stone. 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 Ecco il mio bellissimo e adoratissimo Quarry. Almeno per adesso non dovrò fare lunghe sessioni di My League. C'è voluto un sacco, ma alla fine il vaso è stato recuperato. Sentiamo cosa ne pensano a New York. Collegamento con Derpina. Grazie a Derpina per il suo apporto fondamentale LOL. La linea alla regia, dove ci comunicano che devo fare gli Steam Engine. La linea alla regia, dove ciò che fa gli ucconti. Grazie a tutti. 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 Ecco dopo aver fatto gli steam engine. Propongo di andare a letto perché domani si inaugura il primo query. Buonanotte pubblico. 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 Sì, 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 sì. Visto che ero vicino, ho preso un po' di legno e a casa mi faccio della carbonella. E come vedete il curry sta iniziando a funzionare. Festeggiamo con dello champagne. LOL E' un po' di legno. Giusto. Mi sono dimenticato che volevo mettere la doppia chest sul curry e la prossima volta credo metterò dei tubi che collegano il curry alla chest. Beh per questo episodio della tecnica è tutto. Se vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace, se le bollicine per il festeggiamento del curry non vi hanno inabriato la mente. E naturalmente, oh miei ubriaconi, se non l'avete fatto, iscrivetevi. Ciao e alla prossima. Cammeriere. Un altro giro per il mio pubblico. Ciao. 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 Ciao.